Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi vi presentiamo un bel romanzo storico appena pubblicato da Baima Ronchetti dal titolo Arduino e la marca di Eporeia di Davide Polcari, che abbiamo il piacere di avere il nostro gradito ospite e a quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola perché ci parli di questo interessante romanzo storico. Prego Davide, a te. Un caro saluto a tutti. Sì, sono molto emozionato perché è il mio primo romanzo e la mia prima pubblicazione. Adesso mi trovo lanciato in questa avventura l'esperienza del Salone del Libro, la prima presentazione in una libreria e adesso questa intervista che mi riempie di orgoglio anche perché è stato un lungo e duro lavoro. Allora, questo romanzo che adesso è pubblicato, quindi è disponibile in tutte le librerie o disponibile ordinabile e nei maggiori store online. È frutto di un lavoro di anni, nel senso che l'ho avuto nel cuore per tanto tempo e ho fatto grandi e approfonditi studi sulla materia e poi naturalmente la scrittura e la revisione anche hanno portato via molto tempo proprio a causa dell'inesperienza della scrittura narrativa. Arduino e la Marche di Iporeia è la storia, come può suggerire il titolo, di un Arduino abbastanza famoso, Arduino di Ivrea, anche se non tutti in Italia ne hanno contezza del personaggio, nemmeno tra gli appassionati di storia perché purtroppo è una figura un po' trascurata spesso dalla narrazione storica. Arduino fu storicamente un re d'Italia dall'anno 1200 all'anno 1014 ed è stato a volte presentato dalla narrativa scolastica nello studio della storia in un breve capitoletto nei manuali di storia delle scuole come il primo re d'Italia, cosa che in effetti non fu, nel senso fu re d'Italia, ma fu semmai l'ultimo dei re d'Italia medievali e l'ultimo in re d'Italia indipendente, quindi con una corona separata da quella tedesca perché poi da Ottone il Grande con la pausa di Arduino in poi la corona di re d'Italia esisteva ma era nominale in quanto di fatto era associata alla corona tedesca, quindi la corona imperiale. Fu l'ultimo fino poi al vesimo secolo, agli episodi di risorgimento della nuova unità d'Italia. Naturalmente il regno d'Italia nel decimo secolo, nel decimo undicesimo secolo era una cosa molto diversa da come possiamo immaginarcela ma non era molto diverso da come erano i coevi regni che non erano ancora regni nazionali, erano regni feudali come il regno di Francia del più o meno coevo Ugo Capeto, non era molto diverso da regno di Arduino, cioè un regno feudale in cui il sovrano era necessariamente costretto a venire a patti con i grandi vassalli del regno. La figura di Arduino, al di là degli episodi storici, è in realtà volta molto nel mistero e io sono andato soprattutto a lavorare in quella zona d'ombra, nel senso che questo romanzo ha un arco narrativo di ben 18 anni ma si muove tra l'anno 973 e il 991, quindi prima che Arduino diventi re, addirittura prima che diventi marchese di Vrea, che era il ruolo che aveva nel regno d'Italia prima di diventare re. Di fatto quindi, visto che di Arduino e dell'Arduino storico sappiamo poco, prima della sua ascesa come marchese, quello di questo romanzo è quasi un personaggio di fantasia che ho dovuto costruire naturalmente in modo il più verosimile possibile, non solo rispetto al contesto storico in cui l'avventura narrativa si svolge, ma anche rispetto a quello che sappiamo poi diverrà il personaggio storico come marchese e con me. In realtà non è l'unico personaggio importante di questa narrazione perché l'ho costruita con tre storie intrecciate e quindi abbiamo, oltre al giovane Arduino, che quindi ha il suo obiettivo di diventare cavaliere, titolare di un feudo, prima ancora che marchese, abbiamo anche un chierico che quindi interpreta la fascia dotta della popolazione e ricordiamoci che questo è il periodo in cui c'è ormai già molto lanciata la riforma cluminacense, in cui c'è un personaggio che diventerà Papa poi in seguito, Silvestro II, Gerberto Dorirac, quindi un personaggio dotissimo che nel romanzo viene appena appena menzionato perché ad un certo punto i personaggi si muovono su uno scenario storico e quindi ci sono degli incontri importanti che vengono svolti, però è un personaggio molto dotto, quindi ci mostra la figura stessa del chierico come all'epoca non tanto la nobiltà titolare del potere politico quanto i chierici, soprattutto se legati a uno scriptorium, a una scuola, fossero i personaggi dotti dell'epoca e questo personaggio che si chiama, questo personaggio di fantasia che si chiama Nansprando è un monaco dello scriptorium del Vescovo Armondo di Ivrea. Il Vescovo Armondo di Ivrea è un personaggio storico, veramente aveva istituito uno scriptorium presso la cattedrale, rimangono alcuni importanti codici lignati tuttora conservati. Ecco, questo personaggio si colloca in questo ambiente e quindi avrà a che fare molto con Arduino, a partire sin dalle prime pagine in cui si facendo una profezia che sarebbe stata comunicata a questo monaco, di cui all'inizio lui non sa se credere a questa profezia e che significato dare, perché se anche fosse vera sarebbe comunque abbastanza criptica. Un altro personaggio importante di questa narrazione è Anna, una ragazza di ceto libero ma umile, una contadina di origine montana, la cui famiglia è stata tempestata da una scorreria, una vendetta tra villaggi, lei stessa era fanciulla quando è successo e quindi non l'ha capito, comunque è stata sterminata da sua famiglia, lei è fuggita ed è stata adottata da un'altra famiglia simile alla famiglia d'origine. Quindi questi tre personaggi, una contadina di ceto libero, un chierico dotto perché appartenente a uno scriptorium e il giovane Arduino, intrecciano le loro storie principalmente nell'Italia, ma non solo nell'Italia, di fine decimo secolo, ognuno con il suo obiettivo in un contesto che cerca di rendere il più rigoroso possibile sotto il profilo storico. Così intendo rigoroso, ho cercato di evitare naturalmente lezioni di storia tra le pagine di un romanzo perché non sarebbe adeguato al romanzo, l'obiettivo del romanzo al massimo può essere stimolare la curiosità di andare poi ad approfondire un periodo storico, ma comunque tutto ciò che è presentato nel romanzo o è successo o avrebbe potuto succedere in quanto verosimile rispetto alla vicenda, comunque nulla di contrario a quanto realmente accaduto. È una scelta quella del rigore storico che naturalmente potrebbe patire qualche piccola eccezione di cui lo conto in una nota storica alla fine. Faccio un esempio, la parola cavaliere non è propriamente tipica del decimo secolo, l'ho usata nel romanzo perché usare parole diverse come Miles avrebbe potuto essere pesante, non tanto per il latino in sé, ma perché avrebbe potuto rappresentare una parola magari meno familiare per avvicinarsi allo ruolo che certi personaggi andavano a interpretare. Quindi in alcuni casi ho usato delle parole o delle situazioni che comunque se dal punto di vista terminologico potevano non essere perfettamente corrette, comunque rispettavano lo spirito della narrazione e lo spirito dell'epoca. Naturalmente il romanzo è scritto in lingua italiana e quindi i dialoghi tra personaggi sono in lingua in italiano corrente, non in volgare del decimo secolo, perché sappiamo che poteva essere un postico anche da leggere, non so, il sauche che le terre perché le fini, no? Non è una cosa di quella genere. Quindi il rigore storico è una cosa di cui ho cercato di fare tesoro, anche se a volte può darsi che possa generare qualche piccola confusione, ad esempio i casi di omonimia, ci sono in un'epoca in cui ci sono tanti personaggi, dicono esempio, di nome Ottone, Ottone I, Ottone II, Ottone III, Ottone di Svevia, Ottone di Monferrato, insomma ce ne sono parecchi, cercando di rendere più semplice individuare e distinguere i personaggi ho comunque preferito scegliere sempre il rigore storico. Quindi naturalmente in questo periodo narrativo di 18 anni i personaggi incontreranno personaggi storici e fatti storici realmente accaduti. Ho menzionato l'anno di inizio, 973, per chi maneggia un po' le date, se non si maneggia adesso lo dico tanto per menzionare, è l'anno della morte di Ottone I il Grande, quindi della successione del figlio Ottone II, l'anno della battaglia di Torturo in Provenza, in cui il marchese di Torino, Arduino e Glabro, alleato con i conti di Provenza, affrontò i saraceni che detenevano un importante avamposto in Provenza da cui avevano compiuto scorrerie e se nei primi anni erano più che altro via mare, dopo la distruzione della flotta avevano colpito moltissimo l'entroterra, giungendo fino all'udierna Svizzera e spesso in Piemonte. Altri fatti storici più o meno importanti sono menzionati e ogni volta che si incontra un personaggio storico in un luogo è perché quel personaggio storico effettivamente era in quel luogo. Se l'imperatore Ottone II lo si trova nel dicembre del 980 a Pavia è perché nel dicembre del 980 Ottone II era a Pavia. Quindi il contesto ho cercato di renderlo veramente verosimile. Questo però senza sacrificare o cercando, insomma, spero di esserci riuscito, di non sacrificare in nessun modo la scorrevolezza e la leggerezza della lettura di un romanzo. Non è un trattato di storia. Una delle cose che ci tengo a dire è che ho scritto questo romanzo perché da eporediese, potrei definirmi c'è abitante di Ivrea per chi non sapesse se gli eporediesi sono gli abitanti di Ivrea, ho sempre nutrito un grande fascino nei confronti della figura di Arduino sin da ragazzo quando l'ho scoperta e al tempo stesso ho avuto un certo risentimento per il fatto che questa figura non avesse avuto una narrazione adeguata a livello proprio del genere fiction. Cioè, giungiamo al paradosso che noi conosciamo quasi alla perfezione, per gli appassionati quantomeno, la vicenda del vichingo Ragnar, per dirne uno, del re Sassone Alfredo, ma non sappiamo la storia italiana. Ecco, che Arduino è stato non solo un personaggio piemontese o canavesano, ma un personaggio italiano che ha avuto il suo ruolo controverso, senza dubbio, comunque importante per la storia italiana. Quindi il mio desiderio era cercare, utilizzando il metodo della narrativa, quindi un metodo più leggero per chi ci si avvicina, o anche più piacevole per chi si è già del mestiere, comunque molto appassionato, il metodo del romanzo per presentare un personaggio e stimolare la curiosità. Non si sarà un trattato su Arduino, ma spero che venga voglia di approfondire poi questa figura e poi chissà, se il romanzo avrà successo, magari scriverò un seguito su un periodo successivo, un po' più storico, legato alle sue peripezie, alle sue vicende. E quindi spero che questo romanzo possa interessare in generi appassionati del genere del romanzo storico, della fiction ambientata nel Medioevo, e che possa interessare più in generale anche gli appassionati di storia medievale che vogliono utilizzare un metodo leggero per avvicinarsi a una figura, a mio avviso, molto significativa, come quella di Arduino. Una cosa che vorrei sottolineare, poi diciamo per chiudere, perché non vorrei nemmeno essere troppo prolisso, e che non è un romanzo morale. Quindi non si trova, come dire, una morale finale di questo libro, perché tutti questi personaggi, ognuno ha anche i suoi difetti, non sono eroi perfetti. forse la cosa che ci può cercare di trasmettere del mio pensiero è che questi personaggi vissuti mille anni fa, queste persone, perché al di là del fatto che molti dei personaggi della narrazione sono inventati, però sono comunque verosimili, queste persone vissute mille anni fa non erano per nulla diverse da noi. nel senso che sono cresciute in un contesto culturale, in un contesto geopolitico, in un contesto medico-sanitario molto diverso dal nostro, ciò nonostante la bestia, Homo sapiens, è sempre la stessa da molto più tempo, di mille anni, da tantissimo tempo, e quindi tutti noi abbiamo, ora come allora, le nostre pulsioni, il nostro desiderio di affermarci, il nostro desiderio anche di meritare quello che abbiamo, il nostro desiderio di garantire la sicurezza e benessere a noi stessi, alle persone noi care, a volte anche il nostro idealismo, e quindi questi personaggi avranno queste stesse grandi pulsioni o anche piccole meschinità come le abbiamo tutti noi, che al tempo stesso, come dicevo, c'è questa forte cosa in comune che ci unisce, unisce noi e i nostri avi, e al tempo stesso ci sono anche delle cose molto diverse, perché naturalmente il contesto culturale è completamente, completamente, è molto diverso da quello di oggi. E allora, in un'epoca in cui si tende a volte a giudicare con severità gli uomini del passato, ecco, io invece ci tengo a dire no, non giudichiamoli con severità, perché amare la storia non vuol dire, se posso permettermi di citare il professor Barbero, dire, oh che bello, io vorrei essere come quel personaggio storico in tutto e per tutto, vorrei che il mondo fosse com'era a quel tempo lì, perché mi piace, o mi sono innamorato romanticamente del decimo secolo o di qualche altra epoca. No, perché ogni epoca ha un complesso di cose positive e negative, noi oggi siamo abituati a una serie di comodità, di diritti, di benessere e di valori che abbiamo costruito anche sulla base di vicende storiche, anche molto dolorose, ma valori in cui crediamo molto in cui magari alcune persone non credevano o la maggior parte delle persone non credeva affatto nei secoli passati, però non per questo meritano di essere giudicate negativamente, quindi i nostri antenati che avevano valori diversi hanno comunque vissuto una vita dignitosa con i loro alti ideali, a volte diversi dai nostri, ma che comunque non per questo non ci affascinano nella loro nella loro vita piccola e grande, nelle loro piccole cose, nella loro grande epoca. E io spero di essere riuscito a rappresentare un po' anche questo, cioè grandi cose, grandi ideali, grandi eventi e anche piccole necessità. Il tutto, naturalmente, in mezzo a un'avventura che spero possa essere considerata appassionante. grazie Davide, è davvero interessante, in effetti hai ragione, è un personaggio misconosciuto, quello di Arduin o di Iurea, quindi anche se in veste narrativa meritava che qualcuno se ne occupasse, insomma, no? e quindi complimenti per aver realizzato questo questo romanzo storico di cui voglio ricordare il titolo che è Arduino e la marca di Eporeia di Davide Polcari appena pubblicato da Baima Ronchetti e bisogna correre in libreria ad acquistarlo e a farlo proprio in modo tale che possiate calarvi nelle atmosfere del decimo secolo. Io ti ringrazio molto per aver accettato il nostro invito a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove insieme a questa trovate anche tutte le videopresentazioni realizzate fino ad oggi. Grazie ancora e alla prossima. Grazie a te e un saluto a tutti. Grazie a tutti.